I medici di famiglia chiedono di fornire alle ASL gli elenchi dei loro pazienti fragili e di provvedere direttamente a fare i vaccini nei loro studi medici. Non c'è bisogno di inserire dati nella piattaforma, è solo burocrazia. E' questa in sintesi la posizione della maggior parte dei medici di medicina generale dopo che l'unità di crisi della regione Campania ha richiesto ai medici di iscrivere i propri pazienti appartenenti alla categoria delle persone fragili sul portale approntato dall'ente di Palazzo Santa Lucia per le vaccinazioni segnalando le singole patologie. Noi medici di medicina generale siamo stati presi d'assalto con centinaia di telefonate e richieste da parte dei pazienti che giustamente sono preoccupati per la pandemia e della correlazione delle loro condizioni di salute, ha detto ai nostri microfoni il dottore Mario Borrelli, il medico di base di Salerno che annunciando un nuovo incontro in regione Campania per martedì confida nella risoluzione di questa problematica perché in questo momento bisogna portare avanti la campagna vaccinale, ha detto senza lungaggini ma con efficacia. Allora volevo chiarire in pochi secondi, i medici di famiglia sono quelli che hanno dato il maggior tributo di vite per la pandemia da coronavirus. Sono stati lasciati in trincea, spesso a combattere a mani nude e da soli abbandonati. Noi già abbiamo dato la disponibilità per poter fare questi vaccini ai pazienti fragili che noi conosciamo. Invece questo accordo che era stato già preso una settimana fa è stato disatteso. Per cui il discorso della piattaforma, in realtà noi non abbiamo bisogno di inserire nessuno nelle piattaforme perché abbiamo disponibilità a fare noi vaccini a questi pazienti fragili che noi conosciamo e che preferiscono, che siamo noi proprio a fare loro il vaccino. E noi abbiamo dato questa disponibilità. Solo burocrazia a suo avviso? Solo burocrazia di chi non conosce, che non vive la realtà, non vive la realtà e che pensa di fare a meno dei medici di famiglia. Questa è purtroppo la dura realtà. Presumibilmente il fatto di inserire i dati delle persone con l'anamnesi potrebbe servire all'unità di crisi per l'acquisto dei vaccini. Ricordiamo che ne abbiamo di diverse tipologie al momento. La verità è che per i fragili sono previsti quelli buoni, che poi ci sono vaccini di serie A e vaccini di serie B. I nostri politici purtroppo hanno fatto scelte sbagliate perché si sapeva che i vaccini mRNA, parlo di Moderna e Pfizer, erano di gran lunga superiori in tutto, sia come efficacia e come tollerabilità a quelli ad adenovirus. E parlo degli altri, cioè AstraZeneca, Johnson & Johnson che arriverà, Sputnik, lo stesso reitera italiano, che hanno una tecnologia che non può essere comparata come efficace e come tollerabilità a quella mRNA. Quindi ci sono dei vaccini buoni che faranno i nostri, diciamo, che hanno un'efficacia del 95%, un'ottima tollerabilità e sono moderna i Pfizer. Ci sono dei vaccini che sono meno efficaci perché purtroppo gli esperimenti dicono che i vaccini ad adenovirus, e parliamo di AstraZeneca, pure di Johnson & Johnson e gli altri che arrivano, hanno un'efficacia del 60% e una minore tollerabilità. Questo però ovviamente crea confusione perché nel momento in cui si parla di vaccini di serie A e di serie B ogni paziente ovviamente tende a scegliere quello migliore, ma non si può scegliere. Purtroppo non si può scegliere. Come si dice? O ti mangi questa minestra o ti butti dalla finestra. Però se i nostri politici e i tecnici avessero seguito tutti gli studi che da circa un anno, si hanno per esempio fatti dalla National Institute of Health Americano e quindi le FDA, sono strutture serissime e rigorose, avrebbero visto che i vaccini mRNA avevano una grande potenzialità, un'ottima efficacia, un'ottima tollerabilità. Si poteva fare un accordo con questo tipo di vaccino che costa la bellezza, diciamo, per loro di 15 euro. Qua parliamo di non di cifre altissime. Certo, rispetto ai meno di 2 euro di AstraZeneca, economicamente conviene AstraZeneca, però in realtà se avessimo usato quel tipo di vaccino, in un mese e due settimane avremmo eradicato il coronavirus. Martedì prossimo in Regione ci sarà un incontro e speriamo che io personalmente, come tanti colleghi, abbiamo aderito alla proposta di farli direttamente noi. Quindi saremo noi, spero, comunque. Bisogna sempre, purtroppo, fronteggiare, diciamo, anche i politici che poi ci danno questa opportunità. Noi siamo stati sempre vicini ai nostri pazienti, siamo sempre in prima linea e vogliamo continuarlo a fare.